Da giorni circola la notizia che Amber Heard abbia scenato tutto per quanto riguarda la nascita della sua bambina. Sul web molte le ipotesi riguardanti il fatto che in realtà Amber non avesse realmente avuto una bambina ma che l'avesse presa in prestito per alcuni set fotografici. Anche perché Amber adesso soggiornerebbe a Israele senza avere con sé la bambina. Un fotografo professionista svela la sua verità raccontando un episodio che ha dell'incredibile. Secondo quanto descritto minuziosamente dall'uomo costui sarebbe stato chiamato da Amber per realizzare un servizio fotografico nella sua villa nello Yucca. La prima cosa che ho visto racconta è stata che stava bevendo e c'erano delle bottiglie ovunque. L'uomo continua dicendo che assieme ad Amber vi fossero due donne, una bionda apparentemente spaventata che poi identificherà come la sorella di Amber ed un'altra mora che indica con il nome di Eve Barlow. Una delle due donne ha preso una bambola e l'ha portata sul set fotografico. Una bambola iperrealistica dice. L'uomo ha allora chiesto un anticipo ma Amber avrebbe rifiutato quindi il fotografo sarebbe andato via non prima di aver scattato una foto alla bambola. Secondo molti utenti si tratterebbe della stessa bambola usata da Amber nella foto, risistemata al computer per darle un aspetto più realistico. Si tratterebbe comunque di una rivelazione fatta dall'uomo che non ha di fatto pubblicato prove di quanto dichiarato. Nel frattempo il popolo del web si è fatto segurgio ed ha constatato che effettivamente le bambine nelle diverse foto postate da Amber sembrerebbero essere ogni volta diverse. Questa è la foto che pubblicava il 2 febbraio, questa invece la pubblicava 15 giorni dopo. Ma sembra non sia la stessa bambina. Amber potrebbe aver inscenato la sua maternità in vista del processo per avere una base solida su cui poter suscitare emozioni nei confronti della giuria. I sospetti si sono consolidati quando Amber si è mostrata in giro per Tel Aviv con un passeggino vuoto. D'altronde non sarebbe la prima bugia di Amber. E tu pensi che Amber abbia mentito anche su questo? E cosa ne pensi delle foto pubblicate sul suo profilo?